è terminata la partita tra marcianese futsal academy e virtus castelfranco vi che ha visto la vittoria del marcianese per 7 a 1 e qua con noi angelo mentre vediamo il suo gol e gli altri a lui chiediamo un commento su questa partita buonasera è stata una partita bella da vedere dagli spettatori abbiamo sofferto un po all'inizio sul pareggio ma poi abbiamo subito rimandata la partita e abbiamo messo il piede giusto e abbiamo abbiamo dato tutto l'impossibile che avevamo grazie angelo per l'intervista ci vediamo domani per le altre vostre partite forza marcianese volevo fare un ultimo saluto ai miei compagni alla mia famiglia alla mia fidanzata e un saluto soprattutto a dario di fuccia al nostro prof ciao prof ed ora siamo con un giocatore del castelfranco veneto è qua con noi giancarlo mentre vediamo le azioni della partita anche a lui chiediamo un commento su questa gara niente la partita è andata male primo minuti abbiamo segnato un bel gol e cercavamo abbiamo cercato di vincerla però dopo ci hanno distrutti sette gol una bella batosta ti ringrazio giancarlo per l'intervista ci vediamo domani grazie anche a te forza virtus